E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, ci siamo di nuovo su Minecraft It a sesta stagione Ed eccoci qua, vi è piaciuto l'episodione di ieri, perché il doppio episodione di ieri abbiamo costruito una cosa che è clamorosa Quella cosa là in fondo, cioè è mostruosa, è veramente enorme, eccezionale, clamorosa, è fantastica Abbiamo costruito un'unica zona del nostro mondo in un episodio, cioè qualcosa di favoloso Ho fatto, ecco questo è quello che ho fatto poi off camera, ho messo sti blocchi d'oro Sono andato a reperire altri blocchi d'oro, ma il problema che non avevo assolutamente considerato è il seguente Siete pronti? Voilà! C'è un mondo qua dentro, c'è un cazzo di mondo, porca miseria Ora l'idea è che io scaricherò questo chunk, rientrando, cioè andando lontano, ritornando qua si ricaricherà Nella speranza che siano spawnati pochi mob, io tenterò di mettere più torce possibile, andare ad illuminare il tutto E sperare che si ricordi il gioco che non deve far spawnare gente Cazzo, speriamo che vada bene, dobbiamo illuminarla assolutamente Prima però volevo farvi vedere quanto ferro abbiamo fatto Ok? Questo è tutto quel ferro che abbiamo fatto E io vi giuro che mi sto preoccupando perché tutto sto ferro io... che cazzo ci faccio? Cioè è qualcosa di eccezionale, meraviglioso, incredibile Utilizzeremo magari golem per fare delle guardie qua Non so come tenerli fermi, magari riuscirò a ingabbiarli e tenerli fermi Però certo sarà problematico, vediamo quanta gente... Ok, è respawnata tanta gente Ma porca troia, dai, ma come si fa, ma come si fa È un casi... Pensa a qualche cosa, inventa di qualcosa perché se no là dentro non c'entriamo mai più in tutta la nostra vita Dai, 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 dai che non è esponato nessuno, sono sicuro che non è esponato nessuno Ah, discretamente, discreto, guardate pensavo peggio Ora, l'idea sarebbe partire da un angolo della piramide e iniziare a illuminare tutto come se non ci fossero domani Oppure combatterli, io posso combatterli Allagato, allagato, incredibile Oddio, cazzo Ragazzi, perché fate queste cose cattive? Ok, tac, mori Che alla fine c'è luce, si vede luce perché c'è... cioè passa la luce, non dovrebbe passare ma passa Ok, questo è il senso Se io riesco a uccidere tutti questi stronzetti, qua è pressoché fatto il gioco Devo uccidere il tutto È difficile, guardate, non è proprio, proprio facilissimo No, buono Muori Cazzo, perché poi non ci sono punti di... dove ripararsi Ecco, mettiamola così Se io riesco a metterli all'angolo, mi manca questo e un altro Buono Non dovrebbero spawnare a rigor di logica Perché se sto dentro io sono troppo vicino a tutti i punti Quindi non mi fa spawnare gente Muori, ok, perfetto Ah, non avevo... non ho più il potenziamento Adesso lo dovrei riacquistare Appena mi avvicino alla zona Eccolo qua, il potenziamento è riacquistato Uccidiamo anche il ragno E la zona è completamente libera Adesso ci preoccuperemo di andare a mettere tante tante torce Per non far spawnare troppa gente Io partirei da qua, da questo punto qui Ogni quattro blocchi Questo sarà il primo Tac, così Allora, qui le mettiamo a casa Sono una roba del genere Voglio fare una roba ordinata, no? Ogni quattro blocchi Uno, due, tre e quattro Lo metti qui Ma perché spawnate? Cazzo, non dovreste spawnare? Eh, perché se sto in un angolo Spawnano Vabbè, ok, so come farlo Beh, diciamo che mi ero preparato un po' di torce Da così proprio alla grande Però va bene, abbiamo completato il tutto E salva sta zona adesso Libera, ok? Che ci facciamo dentro? Non lo so Che cosa ci andremo a costruire qua dentro Perché in effetti è un ampio spazio È veramente molto grande E utilizzarlo, cioè così non è utilizzato, no? Il punto è che ci puoi costruire Costruire in una zona del genere Porca miseria, non lo so di preciso Delle segrete, qualcosa del genere Non lo so, un labirinto Un labirinto Che ti porta a prendere qualcosa Potrebbe essere un labirinto carina come idea Comunque, oppure, non lo so Qualcosa, qualche sistema di difesa Tipo particolare Non lo so, eh Stavo attirando abbastanza a indovinare Ora qua ci potremmo mettere delle torce Assolutamente sì Perché illumineranno poi L'illuminazione la studieremo Ad hoc Qua, là dentro è una parte che non si vede Quindi fotte sega Se l'illuminazione non è perfetta Qua lo deve essere Assolutamente sì Bene Molto molto bene Abbiamo fatto grandi cose Qui si sta Sta piovendo E vediamo se io perché avevo fatto Avevo zappato un po' di terra Ma dai qua si è espanso ancora Il grass block Non so da dove Pensavo di averli zappati tutti Invece qualcosa è resistito Di qua no Guardi questo si è trasferito tutto Vabbè ok abbiamo Stiamo trasferendo un sacco di roba Anche qui ormai è tutto Completamente Col micelio Col micelio E anche sta parte Sta diventando col micelio È figo perché Sarà tutta la piramide Anche costruita Intorno al micelio Figo Mi piace un botto Sta piramide È qualcosa di fighissimo Ora meravigli Mi sono venute un altro paio di idee Per utilizzare sta roba Però penso che Attualmente la lasceremo così Non ho intenzione Neanche di illuminarla tanto Perché dato che Dentro è illuminata Ci sono anche di notte Si vedono sti cosi Fa luce Anche se poi qua Non potrà sponare mai nulla Qui si vede tutto Illuminato Bello figo Mi piace Cioè io penso Quello terrei anche così Va bene Ora parecchi di voi Mi hanno chiesto Che cosa ci farò Con tutto sto ferro E la risposta è che Non lo so neanche io E ovviamente io Che cazzo ne so Che cazzo ci andremo a fare Non ho idee Qui c'è questa base Molto molto carina Che ci permetterà magari Di andare a ricreare Qualcosa di figo Per esempio Noi avevamo iniziato Quel progetto Che era una figata Stratosferica Quello della Base spaziale Ok Che progetto che poi Non finimmo Per varie ragioni E tutto il resto Qua è collegato Qui si può passare Ci sono vari punti Ancora da chiudere Cioè chiudere poi Da illuminare E tutto il resto Dove si sta espandendo Non ho attualmente Intenzione di fare Una muraglia E chiudere il tutto Piano piano Se verrà Verrà da sé Ok va bene Voglio fare comunque Altre costruzioni medievali E qua intorno Dobbiamo finire questa Porca miseria Finire la zigurat Per ora E finire questa Poi andremo a pensare qualcosa Ma non è un problema Adesso Concentrazione ragazzi Concentrazione Che cosa andiamo a fare Adesso ci serviranno Per esempio Dei punti Leva questo Dicevo Intanto Devo andare a collegare Tac Perfetto Devo andare a collegare Questa zona Con La parte Delle Non le segrete Questo magari potrebbero essere Un passaggio segreto Che collega appunto Il nostro magazzino Al Al coso Al magazzino Al punto d'arrivo Dove si arriva Perché magari Ci si arriva facile Poi questo tanto si chiude E non ci arrega Grossi problemi No potrebbe essere un'idea Poi un'altra cosa Mi avete detto Dice ma perché non continui Le spedizioni spaziali Beh potrebbe essere un'idea Finirle Ho questa idea in mente Magari Rifacciamo un'altra base lunare Allora come posizione ci siamo Dobbiamo soltanto scavare In questa direzione Per tanti tanti blocchi Abbiamo praticamente Collegato il tutto Non ci rimane altro Oggi episodio di transizione Perché dovevamo finire Alcune cose Ho pensato bene Di farlo In video Oddio spero di aver preso Bene le misure Ma sono quasi sicuro È lontano il posto Per carità Non è vicino Eh esatto Vi trovate al ferro Vediamo Ok Va benissimo Perfetto Ci allontaniamo altro po E poi saliamo Tac Tac Perfect Anche troppo secondo me Perché passi da qua Sono lontana Troppo vicino Io direi di sbucare Tipo qua Ok quindi magari Qui andiamo a richiudere il tutto Scherzavo Allarghiamolo Tac Levi questo Quindi qui sali Qui sali E qui puoi andare a mettere Dell'altra terra Perfetto Collegato Collegamento fatto Adesso ovviamente Bisognerà scavare Bisognerà fare il pavimento Il coso sopra Il coso sotto E su E giù E ci metti 20 anni E ci metti il ferro E ci metti questo Ci metti tutto Vabbè lo facciamo Perché di tanto Non è che ci voglia tantissimo Però Un po' ci vorrà Bene Fatto un botto di cose Vi faccio vedere Riapriamo il tutto Dai Perfetto Siete pronti Carichi Voilà Dai per favore Ok Sì Ho cambiato questo Beh oh cazzo Vi pare poco No Cioè non lo so Sembra poco Poi Devo illuminare Assolutamente Il tutto La cosa bellissima Che non c'è bisogno Che io cambi No metta del grass block sotto Perché passa da sopra Quindi vai tranquillo Non c'è nessun tipo di problema Sono tre Così Mettiamo le varie torce Del caso Che serviranno Ad illuminare il tunnel Perché sennò Ci sponano Le bestiacce Deve essere un tunnel Di trasferimento Non è che devo fare Chissà cosa Quindi posso tranquillamente Lasciarlo Così Non credete Io penso proprio di sì Perché qui ci sono quattro E qui ci sono tre 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 Io l'ho messo Sbagliato Ho messo Sbagliato qualcosa O sono tre Qui sono tre E qui sono quattro Ho sbagliato Questo allora E infatti Sbagliato Grande Buono Così Così E poi così Vi andremo a metterne Parecchi Va bene Poi quando ci sarà Tutto questo Sarà fatto E sarà un percorso Alternativo Che potremo utilizzare Per arrivare qua Al centro di arrivo Risorse Là ci sono tutti I vari silos Guardate C'è una quantità di ferro Che io vi giuro È abominevole Abominevole Scendiamo E poi vedremo E poi vedremo Se fare o meno Questa parte Che vi dicevo Ah no Da qua Non posso risalire È l'unico handicap Magari che questa È d'entrata unica Cioè non puoi entrare Ma non puoi uscire Fotte sega Ovviamente noi Facciamo una cosa Del genere Riusciamo Esci qua Tac Ci rimetti il tutto E vai Tranquillo Si è fatta anche notte Si è fatta una certa Come si dice La zigurat Sta lì Resta là Non la muove nessuno Poi andremo Magari a Sistemare E migliorare In tutti i casi ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Abbiamo fatto Un botto Un botto Un botto Cioè no In verità abbiamo fatto Cose utili Perché dovevamo collegarlo Il collegamento Lo dovevamo fare Dovevamo illuminare La zigurat Quindi le cose Vanno Cioè sono state Profique Utili Perché poi abbiamo Almeno abbiamo Un collegamento Easy Senza dover uscire Che alla fine Ci metti Meno tempo Ovviamente risparmi tempo Abbiamo illuminato la zigurat Che ci serviva Se noi mob Ci massacravano male E dovremo pensare Poi a come utilizzare Tutto questo ferro Se davvero fare Una base spaziale In tutti i casi ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo La visione di lasciare Mi piace Se il video è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto Di condividere le video Su facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E telegram Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti